Ciao, sono Gianluca Troiani e sono Nea Stylist. Ultimamente mi avete riempito di domande che riguardano sempre lo stesso argomento. Come poter mantenere più a lungo la colorazione più luminosa, più vibrante? E soprattutto questa domanda riguarda le colorazioni rosse, ramate, viola, che sono quelle diciamo meno naturali. Bene, io vi ho mostrato dei video in cui vi ho consigliato dei prodotti per la ricarica del colore ed è un po' come aggiungere pigmento al colore già esistente. In effetti non esiste un segreto vero e proprio per mantenere un colore più a lungo se non quello di utilizzare dei prodotti idonei per il lavaggio soprattutto, quindi per mantenere il colore durante i trattamenti di lavaggio. Oggi voglio presentarvi una nuova linea che è a base di quinoa. Noi conosciamo la quinoa soprattutto perché la troviamo negli alimenti, ultimamente va anche molto di moda nei supermercati, la trovate nei reparti bio e siamo appunto abituati soltanto a sentirla per quanto riguarda i prodotti alimentari. Ci sono molte correlazioni tra i prodotti che assimiliamo anche mangiandoli e quelli che vengono utilizzati per i capelli e per la pelle e questa è una di quelle sostanze. La quinoa come i capelli è fonte di proteine ed è ricchissima di aminoacidi ed è contenuta in questa nuova linea che sto per presentarvi. Questa linea si chiama Ultimate Color Repair. È una linea composta da quattro prodotti come vedete. Ci sono lo shampoo, il conditioner, un prodotto trifasico spray. Fino a poco fa la linea era composta soltanto da questi tre prodotti ed ora è stata arricchita da questa nuova maschera che contiene oltre alla quinoa, burro di karité, jojoba e olio di soglia ed è ricchissima di antiossidanti. Abbiamo utilizzato la nuova linea sulla nostra modella in questo caso ho scelto una modella che non ha un colore uniforme come vedete ma ha un colore di base cioccolato con dei riflessi color rame e questo è uno di quei casi in cui è molto importante scegliere una giusta linea di lavaggio per la colorazione perché altrimenti si rischia di avere un colore uniforme dopo pochi lavaggi. Quindi questa linea può essere utilizzata sia se si hanno dei colori uniformi qualsiasi tipo di colore ma soprattutto in questi casi in cui ci sono delle miscelazioni di colore. Potete trovare questa nuova linea sul mio sito e-commerce che è www.giallucatroiani.it e in tutti i saloni che utilizzano i prodotti Paul Mitchell. Sono molto importanti per me i vostri pareri quindi se utilizzerete questa linea voglio sapere se farà la differenza e se utilizzate già linee di colorazione fatemi sapere come vanno. Sono molto importanti per me i vostri consigli. Io ne do a voi e vorrei riceverne da voi. Ci vediamo presto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!